Mia sorella Jess e io siamo gemelle identiche. Quando una delle due ha qualcosa, l'altra lo sente. È difficile da spiegare, ma io lo sento e basta. Le è successo qualcosa e ha bisogno di me. Sua sorella è andata nella foresta di Jukai. E dove la gente disperata si va a suicidare. Che? Sto arrivando, Jess. Sto cercando mia sorella. È andata in una foresta. Mi serve una guida. No guida, foresta è molto pericolosa. Ormai sei paranoica. Non sei reale. Non sei reale. Non sei reale. Sara. 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 Grazie a tutti.